Furto al supermercato, segnalato un trentenne. San Marco, raccolta di materiale scolastico su iniziativa del gruppo parrocchiale. Rete assistenziale per le demenze al CEFPAS, specialisti ed esperti a confronto. Commemorazione di Michele Tripisciano a Palazzo Moncada. Nissa, l'opinione dei tifosi dopo le prime tre partite, un punto e zero gol. Un giovane di 30 anni è stato denunciato a piede libero in procura per avere commesso un furto aggravato in un supermercato cittadino. Il fatto risale a lunedì scorso, quando gli agenti sono intervenuti nell'esercizio commerciale di Viale Sicilia dopo una chiamata arrivata alla centrale operativa della Questura, in cui veniva segnalato un furto. I poliziotti hanno subito identificato l'uomo, il quale poco prima era stato immortalato dalle telecamere del sistema di videosorveglianza, mentre prendeva dagli scaffali tre bottiglie di liquori per poi nasconderle nello zaino che aveva con sé. A notare la manovra uno degli addetti alla sicurezza che stava osservando i monitor delle telecamere. Gli investigatori, nell'eseguire tutti i controlli del caso, hanno anche scoperto che il trentenne aveva con sé anche poco meno di due grammi di marihuana e quindi, oltre alla denuncia penale per il furto, è scattata pure la segnalazione come assuntore in prefettura per il possesso di stupefacenti per uso personale. Addestato stupore e commozione in città la notizia della morte della nissena Deana Scarpulla, 53 anni, che da qualche anno lavorava come cancelliera dell'ufficio Jeep Group al Tribunale di Latina. La donna è stata trovata morta in casa sua dopo che i colleghi del Palazzo di Giustizia, non avendola vista arrivare al lavoro, si erano preoccupati cercando di capire se fosse successo qualcosa. Poi la tragica scoperta. Pochi dubbi sul fatto che si sia trattato di un decesso per cause naturali, anche se la procura di Latina ha disposto l'autopsia sul corpo della donna per stabilire con precisione cosa abbia causato la morte. Secondo quanto emerso finora, Deana Scarpulla negli ultimi giorni aveva accusato un forte mal di testa e chi l'ha incontrata aveva notato un gonfiore agli occhi, tanto da dover ricorrere alle cure di un medico che le aveva prescritto dei farmaci. In passato aveva anche avuto dei problemi di salute. Deana Scarpulla era conosciuta in città per avere svolto fino a pochi anni fa la professione di avvocato penalista, lavorando a lungo nello studio dell'avvocato Salvatore Daniele, decano del Foro Nisseno. Quaderni, fogli, protocollo, penne e pennarelli, matite, album da disegno, gomme da cancellare, tempera matite, astucci, zaini, diari e tutto ciò che può servire tra i banchi di scuola per affrontare il nuovo anno scolastico appena iniziato, potrà essere utile per aiutare le famiglie in difficoltà. La parrocchia di San Marco Evangelista, infatti, su iniziativa del gruppo catechistico ACR Parrocchiale, organizza per questo weekend, cioè nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 settembre 2022, una raccolta di materiale scolastico. Spesse volte questa raccolta è stata estesa anche a vari gruppi della stessa parrocchia, ma principalmente alle famiglie della parrocchia. Sarà questa giornata particolare, questo evento sarà il giorno 24 e 25 settembre, dove chi vuole può portare questo materiale che poi sarà donato a questi enti tipo la Caritas, tipo Sant'Agara, la parrocchia Sant'Agara con la sua associazione o altre associazioni che si appoggiano a noi per questo tipo di iniziativa. L'invito è rivolto a tutti quanti, perché penso che questo spirito solidale che noi abbiamo, specialmente il Nisseno, da alcuni anni sta veramente incrementando questo stile nuovo di mentalità, di apertura verso gli altri. E quindi questo potrebbe essere anche un'altra prova di solidarietà che ogni Nisseno vuole contibire portando proprio questi articoli riguardanti la scuola. Manca una rete vera per l'assistenza di questi pazienti. Quindi lo scopo di questa giornata è proprio questo, mettere insieme competenze diverse, società scientifiche diverse per poter costruire qualcosa da portare al tavolo tecnico regionale e poter quindi scrivere un PDTA che poi ci aiuterebbe a gestire meglio questi pazienti in tutta la provincia della Sicilia. Il PDTA è un percorso diagnostico terapeutico assistenziale, cioè è un documento che indirizza i medici ai giusti percorsi che i pazienti dovrebbero fare per una buona assistenza. Coinvolge i centri medici, quindi i CDCD che sono gli ambulatori, coinvolge i centri diurni che sono gestiti spesso dalle associazioni dei familiari e dovrebbe coinvolgere anche il territorio, nel senso che dovrebbe essere implementata una continuità tra ospedale e territorio, cosa che in realtà di fatto non esiste in Sicilia. Quello che racconta il docente dell'Università di Palermo, Tommaso Piccoli, uno dei responsabili scientifici del convegno, insieme allo psichiatra Dario Cannavò, è uno degli aspetti affrontati durante l'evento svoltosi al CEF Pass in occasione della Giornata Mondiale dell'Alzheimer. Il convegno sul tema Rete Assistenziale per le Demenze è stato promosso dal CEF Pass in collaborazione con SINDEM, associazione autonoma aderente alla Società Italiana di Neurologie per le Demenze, l'Associazione Italiana di Psicogeriatria e l'Associazione Alzheimer Uniti Italia Ollus. È patrocinato dal Dipartimento di Biomedica, Neuroscienza e Diagnostica avanzata dell'Università di Palermo. Durante le due sessioni, una mattutina e l'altra pomeridiana, si sono confrontati specialisti, esperti, ma anche rappresentanti delle associazioni scientifiche e dei familiari dei pazienti per discutere anche del Piano Nazionale delle Demenze o ancora delle innovative strategie farmacologiche nel trattamento dell'Alzheimer, oltre al concetto di rete. L'obiettivo è sensibilizzare da una parte la società, dall'altra gli operatori del servizio sanitario regionale a occuparsi delle persone malatte di Alzheimer. Tante volte questo impegno non c'è stato come ci sarebbe dovuto essere e alcune reti che sono state costituite in altre regioni qua stentano a partire. Quindi noi ci facciamo promotori di questa azione di diffusione del sapere in questo settore appunto perché si possa costruire una rete ottimale che possa far conoscere tutto ciò che si può fare per queste persone. Sono 21.190 i nuovi casi di Covid registrati in tutta Italia, di cui 1.059 solo in Sicilia, secondo l'ultimo bollettino rilasciato dal Ministero della Salute. Per quanto riguarda la provincia di Caltanissetta, sono 32 i nuovi pazienti positivi al SARS-CoV-2 in base all'ultimo aggiornamento comunicato dall'ASP Nissena. Nel dettaglio 15 sono di Gela, 12 di Caltanissetta, 3 di Mussomeli, 1 di Santa Caterina e 1 di Vallelunga. Ricoverato in degenza ordinaria un paziente di San Cataldo, mentre sono 122 le persone guarite dal Covid, 30 di Caltanissetta, 27 di Gela, 13 di Mussomeli, 12 di San Cataldo, 11 di Butera, 4 di Niscemi, 4 di Serra di Falco, 3 di Mazzarino, 3 di Riesi, 3 di Sommatino, 2 di Milena, 2 di Montedoro, 2 di Resuttano, 2 di Santa Caterina, 2 di Vallelunga, 1 di Campofranco e 1 di Delia. Ieri è stato reso omaggio a Michele Tripisciano, nel giorno del suo anniversario di morte avvenuta il 21 settembre del 1931, artista nisseno riconosciuto come uno dei maggiori protagonisti della scultura siciliana. La manifestazione, inizialmente prevista nell'omonima piazzetta causa a maltempo, si è svolta presso Palazzo Moncada, con i saluti iniziali di padre Alessandro Rovello e alla presenza della professoressa Rosanna Zaffuto Rovello, del professore Calogero Barba e del presidente della Proloco Luca Miciche, che ha introdotto la serata con un discorso commemorativo sull'artista, ponendo successivamente una corona di alloro su un'allegoria di Caltanissetta. Grazie al lavoro infaticabile dei ragazzi della Proloco, la manifestazione si è conclusa con la scoperta di alcuni quadri inediti di Michele Tripisciano, che avvalorano la grandezza dell'artista nisseno. Stamani, grazie al tempo clemente su incarico della Proloco, il Comitato Santa Croce ha deposto la corona di alloro alla base del busto commemorativo dell'artista, che sorge al centro della piazzetta, a lui inditolata esattamente 109 anni fa. Anche quest'anno non potevamo che ricordare il grande concittadino Michele Tripisciano, il grande scultore nisseno, che ha fatto della sua arte un simbolo anche della nostra città in tutta quanta l'Italia. Come ogni anno non possiamo fare a meno come Proloco che ricordare questo grande artista, in collaborazione anche con l'amministrazione comunale, il Comitato dei quartieri Santa Croce e i nostri soci, che comunque si sono spesi davvero tantissimo per questo evento. Ieri, allo stadio Palmintelli, è andato in scena il recupero della seconda giornata di eccellenza a Gironeat tra la Nissa e l'oratorio San Ciro e Giorgio Marineo. La partita si è conclusa con il risultato a reti inviolate di 0-0, ma con due espulsioni per parte che hanno movimentato la partita. La Nissa ha provato a fare la partita, ma la compagine palermitana ha tenuto botta fino alla fine. Per i biancoscudati di Mister Settineri si tratta del primo punto conquistato in campionato dopo le due sconvitte subite in trasferta da Casteldaccia e Agragas. Dato da non sottovalutare, l'attacco ancora a bocca asciutta, con la casella dei gol in campionato ancora a 0. Abbiamo ascoltato i tifosi prima del match, dove ci hanno raccontato i loro pensieri, umori e sensazioni per la stagione in corso. Quest'anno la città è nuova, dopo questi ingressi di queste nuove persone, tra cui il presidente Iacona, ci aspettiamo un campionato tranquillo. Noi speriamo di fare il prossimo anno l'estato di categoria, ma quest'anno il rassetto della squadra deve essere sistemato. Si aspettano tanto, perché la Nissa è blasonata nella regione Sicilia e quindi sai benissimo che dalla Nissa si aspettano tutti tanto. Però è una società costruita tra l'atletico Nissa e Nissa, abbiamo fatto la fusione e quindi siamo in costruzione. Però diciamo che la società è bella solida e ci saranno molte aspettative. Diciamo che ci aspettiamo quando meno di vedere una squadra viva del gioco e poi i risultati pian piano penso che arriveranno. È una squadra ricostruita, quindi vogliosa di fare bene, con una nuova dirigenza, a capo un'ottima persona, l'Avvocato Iacona e speriamo che incominci il lavoro svolto fino adesso a dare i suoi frutti. Ci auguriamo sicuramente che sarà un bel campionato, nonostante le prime due partite con partenza falsa, però stiamo rispondendo bene. Siamo ritornati al Palmindelli come vecchi tempi, presto ritorneremo al Pian del Lago e speriamo che anche la squadra si comporti adesso bene cominciando a fare punti. Un saluto a ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì avremo un contesto anticiclonico sul nostro paese, ma con un flusso di correnti umide orientali che determinano un po' di instabilità all'estremo sud soprattutto. Vediamo nel dettaglio la mappa della nuvolosità che vede di fatto l'Italia alle prese con il sole su gran parte del nostro paese, mentre al sud insisteranno gli addensamenti, specie tra Calabria e Sicilia. Più nel dettaglio dello zoom delle precipitazioni notiamo come i piovaschi sono attesi proprio tra la Sicilia più orientale e parte del Regino, mentre il resto del nostro paese vedrà condizioni di tempo asciutto. Passiamo quindi al tempo atteso sul nostro paese, avremo sole protagonista un po' ovunque al centro nord, ma anche sul basso versante tirrenico, qualche piovasco atteso tra notte e mattina tra Romagna e Marche, ma comunque fenomeni molto localizzati, mentre il tempo sarà un po' più instabile sulla Sicilia orientale, ma anche sul Regino, qui con rischio pioggia, un po' più concreto. Temperature molto frizzanti al mattino, valori termici che di giorno raggiungeranno i 20-22 gradi, punte superiori sulle isole maggiori. Tutti i dettagli sull'app gratuita di Trapi Meteo. Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno, Caltanissetta, Servizio diurno, Romano, Corso Vittorio Emanuele Servizio notturno, Messana, Viale Conte Testa Secca